E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video che è veramente un video speciale visto che infatti l'ultimo video di questo genere che vi ho portato, ovvero quello riguardo la fine di youtube vi è piaciuto così tanto, mi avete fatto capire assolutamente che questi video discorsivi ma anche un po' informativi sono quelli che preferite in assoluto, ho deciso di trasformarli in una vera e propria serie che potrei portare sul canale con frequenza settimanale oppure addirittura ai primi tempi due video a settimana l'importante è che voi continuate a supportare questa serie guardando tutti i video anche se magari ci metto questi titoli un po' strani lasciando un bel pollice in su e magari anche che mi scriviate nei commenti quale argomento volete approfondire di più ma andiamo con ordine, adesso vi spiego tutto, prima però facciamo un gioco io ora vi mostrerò una serie di immagini qui a schermo e voi dovrete commentare, proprio vi do il tempo di commentare cosa secondo voi hanno in comune tutte queste foto grazie a tutti lo avete scritto nei commenti o quantomeno lo avete pensato? esatto, queste foto glitchano, glitchano tutte glitchare è una parola italianizzata che deriva dall'inglese glitch che significa anomalia, difetto ma nel linguaggio informatico il glitch è un difetto, appunto un'anomalia nel codice di qualsiasi cosa può essere nel codice di un videogioco, di un programma, di una canzone, di un'immagine che porta ad ottenere un risultato sbagliato e qualche volta imprevisto tradotto in soldoni però queste foto hanno qualcosa che non va ma seguendo uno schema ben preciso c'è sempre infatti una parte d'immagine normale che poi si rovina, finisce distorta, inevitabilmente compromessa però tutto sommato guardando il quadro generale non vi piace di più così? non trovate che questo glitch aggiunga un significato all'immagine che altrimenti sarebbe banale? e attenzione non è una domanda retorica nel senso che ci sono persone alle quali questi effetti piacciono ci sono altre alle quali questo effetto fa ribrezzo fatto sta che nonostante i gusti personali l'arte del rovinare una fotografia digitale è una cosa concreta e non solo un'arte dal punto di vista grafico ma anche dal punto di vista informatico già perché talvolta la storia che si scela davanti a un'immagine di questo genere è affascinante e a mio parere anche un pochino inquietante se siete curiosi di sapere come mai procediamo con la spiegazione e voglio iniziare con un aneddoto che onestamente mi ha lasciato a bocca aperta nel 2011-2012 successe una disavventura molto particolare alla fotografa Melanie Wilhide ad un tratto infatti un ladro irruppe in casa sua rubando tra le altre cose il suo portatile e i dischi di backup dentro i quali erano conservati gli ultimi suoi scatti fortunatamente mesi dopo la polizia riuscì a recuperare il portatile e lo restituì alla legittima proprietaria ma sfortunatamente si scoprì che il ladro chiamato Adrian Rodriguez aveva formattato tutti i dischi nel tentativo di riutilizzarli per se stesso questa fotografa anziché arrendersi davanti all'inevitabile fece quello che rese questa vicenda famosa tentò infatti di recuperare i dati persi tramite appositi software che molto probabilmente voi conoscerete ma saprete sicuramente che quando si sta parlando di un intero hard disk formattato recuperare un file perfettamente integro è un'impresa disperata ma chi lo voleva il file integro? vi spiego Melanie riuscì a recuperare dei file jpeg delle fotografie che però ovviamente erano corrotti mancavano delle parti come è normale che accada quando si tenta di recuperare un file cancellato spesso non lo si riesce a recuperare tutto però nel caso digitale quando un'immagine è corrotta il computer può reinterpretarla e mostrarcela sotto forma di glitch come per esempio è successo alle foto di Melanie erano sì rovinate ma in un modo talmente originale e suggestivo che la fotografa decise di pubblicarla in una mostra e il titolo della mostra è To Adrian Rodriguez With Love una sorta di ringraziamento al ladro senza il quale tutto questo non sarebbe nato avrete dunque capito che per ottenere un effetto glitch di questo tipo ci sono due strade o lo create tramite complesse procedure su photoshop ma lì dovete essere dei grafici professionisti quindi non è il mio campo oppure potete passare al lato scuro della forza e corrompere volontariamente quell'immagine ovviamente è più divertente il secondo metodo ma il secondo metodo è anche casuale nel senso che per definizione voi non saprete in quale regione della foto andrete a causare questo glitch sarà completamente una cosa random per fare tutto questo avremo bisogno di un solo programma di un hex editor che ci permetterà di approcciarci a un qualsiasi tipo di file in un modo nel quale non siete stati abituati normalmente infatti quando noi ci troviamo davanti a un file lo apriamo secondo la sua estensione se è un video lo apriamo con vlc o con windows media player se è una foto lo apriamo con anteprima o col visualizzatore foto di windows se è un pdf lo apriamo con acrobat reader eccetera eccetera mentre un hex editor tratta tutti i file allo stesso modo ci permette di vedere la loro struttura interna mostrandoci quindi il loro codice binario che per comodità è stato convertito dal binario a esadecimale così si ottimizza lo spazio per rinfrescarvi la memoria i caratteri ammessi nell'esadecimale sono le cifre numeriche dallo 0 al 9 e le lettere dalla A alla F detto questo un ultimo avvertimento che probabilmente vi sembrerà insensato ma voi state comunque andando a modificare il codice di una foto senza sapere cosa state mutando abbiamo visto che bene o male gli effetti che otteniamo sono sempre più o meno questi ma voi state comunque andando alla cieca contaminando un file e quindi questo significa non succede quasi mai che però potenzialmente potreste anche generare degli effetti visivi anche sgradevoli per esempio la foto potrebbe assumere dei toni molto cupi con un colore molto scuro anche macabro oppure magari potreste staccarvi la testa nella foto insomma non sapete quale sarà il risultato finale quindi magari non fatelo su una foto di un vostro familiare e prendete delle foto a caso su google e ultima parentesi io vi ricordo che questa regola vale se modificate i file jpeg se lo fate su altri formati come per esempio png o bmp questa regola potrebbe non valere o comunque potrebbe comportarsi in modo diverso vi ricordo ovviamente di fare una copia della foto su cui andate a lavorare e di lavorare sulla copia non sia mai che rovinate la foto originale che è sempre buona regola e inoltre prima di iniziare vi consiglio di andare su un sito che comprime il jpeg al massimo senza ridurne però la risoluzione perché è importante fare questo? perché così sarete sicuri di lavorare sull'immagine invece quei jpeg per esempio da 50 megabyte in realtà contengono moltissime informazioni che non si traducono poi nell'immagine a schermo informazioni superflue se voi andate a modificare quelle la foto non muterà per niente quindi per evitare di perdervi è meglio ridurla al minimo indispensabile ora per mia esperienza personale su mac questa operazione è un po' facilitata io di solito agisco così apro l'immagine jpeg con anteprima in modo da poterla sempre tenere d'occhio e poi la apro anche in iHacks a questo punto possiamo iniziare completamente a caso a modificare sezioni di codice unica cosa vi consiglio di tenervi lontani dall'inizio e dalla fine del file andate magari poco sotto all'inizio e cominciate di solito ci sono due modi o vi portate nella parte a destra quella che contiene il testo e iniziate a scrivere quello che vi pare possono anche essere lettere a caso ma di solito è figo scrivere delle parole dopodiché dopo che avete fatto la vostra modifica non sovrascrivete troppo premete command s in questo modo salverete le vostre modifiche e non solo il mac come potete vedere vi dà la visualizzazione in tempo reale su anteprima vedete che già la foto è cambiata ma in più se questo effetto ottenuto non vi dovesse piacere basterà premere command z e poi ancora command s e lo annullerete su windows invece questa cosa non si può fare dovreste farvi una copia dell'immagine a ogni modifica esa decimale che vi piace un'altra tecnica invece è quella di portarvi sulla sinistra quindi nella parte esa decimale e iniziare a premere tasti a caso sulla tastiera lui ovviamente vi prenderà solo i numeri dallo 0 al 9 e le lettere dalla A alla F ma è un ottimo modo per inserire codici a caso il terzo e ultimo metodo che conosco consiste nel selezionare da destra o sinistra non cambia niente una parte di codice copiarla portarsi un po' sopra o un po' sotto e poi incollarla anche più di una volta in più punti l'importante è che se l'avete copiata dalla parte destra la incollate sulla parte destra se l'avete copiata dalla parte di sinistra la incollate sulla parte di sinistra tenendo sempre a mente che dopo ogni singola modifica che fate è bene premere command s per vedere se il risultato vi piace in questo caso lo tenete altrimenti command z command s e si ritorna indietro sembra una cosa molto divertente in realtà può anche essere noiosa perché possono passare le ore e non troverete un effetto che vi piace però c'è qualcuno che completamente a caso è riuscito a tirare fuori delle foto veramente belle secondo me ora vi racconto un attimo questa parentesi un po' creepy vi avevo detto prima di utilizzare i jpeg e non i png anche perché ieri mi è successa una cosa molto strana che io sinceramente non so spiegarmi per divertimento ho tentato di fare questa cosa su un file png dopo aver modificato del codice completamente a caso da quella foto lì questo è diventato il png più strano sulla faccia della terra praticamente adesso è diventato una chiappa colore ce li avete presenti gli acchiappa colore che voi buttate in lavatrice e vi assorbono quello che hanno a fianco? ecco praticamente dalla preview è sempre nero ma appena lo apro diventa diviso in quattro sezioni che contengono dei frame di quello che è successo sul mio desktop poco prima eppure il file non cambia perché controllo molto spesso la sua SHA-1 che è come se fosse l'impronta digitale di un file ed è sempre quella quindi se il file non cambia rimane sempre lo stesso come fa una volta aperto a mostrare delle cose diverse? se qualcuno lo sa me lo faccia sapere nei commenti perché io sinceramente non so rispondermi l'unica spiegazione plausibile è che magari i png vengono visualizzati in una maniera diversa non leggendo direttamente il codice binario del file e che magari questo png adesso faccia glitchare anteprima e quindi di conseguenza faccia visualizzare dei frame che gli sono rimasti in memoria è l'unica perché il codice binario non cambia e il codice binario di quel png non contiene assolutamente le immagini che mostra schermo pensate però quanto sarebbe utile avere un png che cattura quello che stavate facendo sullo schermo poco prima non basta più cancellare la cronologia se poi volete ottenere questi effetti in un modo più semplice esiste per esempio un sito web che vi fa tutto quello che vi ho spiegato io in modo automatico però non sono mai riuscito a ottenere qualcosa di interessante e poi c'è anche un'app per iOS che fa una cosa simile però quest'app lo fa appunto tramite grafica non vi va a corrompere, a hexare il file jpeg quindi è meno divertente secondo me questo era l'editing delle immagini tramite hex volendo si può fare anche con dei video, con degli audio ma ve lo sconsiglio perché come vi ho detto prima state andando a inserire delle modifiche completamente alla cieca un file audio potrebbe arrivare ad un volume molto alto e magari ascoltato con le cuffie potrebbe anche darvi fastidio addirittura danneggiarvi lo stesso vale per un video quindi comunque io sto sempre attento quando si tratta di infettare un file andando alla cieca ad ogni modo ho una proposta per voi se ve la sentite di fare queste cose su delle immagini e alla fine vi escono dei risultati belli mandatemeli su Instagram pubblicate la foto su Instagram e taggatemi blackgeektuto e io potrei mettere like o commentare quelle che mi piacciono di più detto questo ragazzi se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su è veramente importantissimo per supportare la serie seguitemi su tutti i miei social network i link come sempre ve li lascio qui sotto giù in descrizione cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video e noi ci rivediamo in un prossimo video